e vediamo, vediamo se lui pensa ancora alla ex o anche se fosse lei, perché mutatis mutandis vale in entrambe le situazioni. Comunque che fare quando la persona che ti interessa, la persona con la quale stai, pensa ancora alla ex o pensa ancora all'ex o comunque magari c'è anche una relazione insomma che non è conclusa, insomma non ha chiuso, non ha chiuso con il passato, il passato è ancora lì aperto, pronto a emergere, a trasvolgere. Salutiamo la nostra greenettina, Green Apple. E quindi cosa fare quando c'è ancora questa ex di mezzo e tu magari sei coinvolta, ti sei innamorata? Ovviamente bisogna sviluppare diciamo qualcosa legato un po' all'autostima fondamentalmente. L'autostima in questo caso è un po' l'evento principale, è un po' la cosa fondamentale che dobbiamo imparare a sviluppare, perché dobbiamo tenere presente che una sana autostima è una forza delle caratteristiche fondamentali per credere in se stessi e per non rimanere vinculati fondamentalmente in situazioni che non ti portano a nessun risultato. Quindi amare se stessi potremmo definire è il punto fondamentale della nostra vita, imparare ad amare se stessi. Salutiamo Crezzi, salutiamo Crezzi Robby che ci dice in genere i conosci, sì sono assenti ai tuoi discorsi, esatto. Le persone che sono collegate a una ex o che hanno un ex insomma, che hanno comunque questa questa connessione, questo collegamento, oltretutto diciamo non hanno, non manifestano nei tuoi confronti delle particolari attenzioni, cioè si vede che sei un chiodo schiacciachiodo fondamentalmente, si percepisce dal fatto che interagiscono con te, ma lo fanno come quasi come se fosse, non dico un dovere, ma una seconda scelta. Quindi queste persone hanno sempre nella testa l'ex e tu sei la seconda scelta. Ora avrebbe da fare la domanda, è meglio essere la prima scelta della tua seconda scelta o è meglio essere la seconda scelta della tua prima scelta? Questa è una cosa interessante, provate a rispondere a queste domande, è meglio essere la prima scelta della tua seconda scelta o la seconda scelta della tua prima scelta? Questo è il concetto fondamentale. Nessuna delle due. Eh beh, nessuna delle due dipende, dipende, perché il terzo non dà turno. È ovvio che la situazione è difficile. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se tu hai in testa qualcuno e però siccome questo qualcuno non ti considera e tu quindi ti fai una, prendi una seconda scelta, oppure è meglio che tu riesci a conquistare la tua prima scelta, la quale però ancora in testa un'altra persona? Eh beh, certo, la tua seconda scelta sarebbe uno di cui ti accontenti e che magari pensi ancora a qualcun altro, no? Come esci, magari hai una relazione, che ne so, con Francesco, ma pensi a quel Mario lontano che non puoi avere perché Mario magari sta con un'altra e tu pensi, pensi, pensi a quel Mario che non puoi avere. Beh, ecco, diciamo questo che non sempre possiamo stare con la nostra prima scelta. Questo dobbiamo... e quindi qua c'è una cosa interessante, no? Se il caso nostro, che devia un po', diciamo, dal termine, se il caso nostro noi sicuramente... abbiamo delle leve diverse. Noi sicuramente non... non possiamo... non possiamo avere, diciamo, la... come possiamo dire... non possiamo avere la possibilità che la nostra prima scelta sia disponibile nei nostri confronti. E tra l'altro non è neanche detto che la prima scelta poi... che noi abbiamo sia la scelta... la scelta giusta per noi, fondamentalmente. è il problema qual è? È quello che dice giustamente la nostra Crazy Robby, che se hai dubbi in testa non ti coinvolgi con nessuno. Ma il fatto che questi dubbi in testa, come dire, potrebbero andare avanti... questi dubbi in testa potrebbero andare avanti anni. Perché, come dire, c'è qualcuno che diceva che è l'amore non veramente consumato quello che non finisce mai. E l'amore veramente non è sperito che non finisce mai. Che durerà nel tempo, proprio perché non è stato consumato. Questo è un dilemma, fondamentalmente. È veramente un dilemma perché è veramente difficile, diciamo, capire cosa fare, no? Perché se una persona ti ha chiuso i canali, magari hai avuto una relazione o non l'hai avuto, hai avuto una relazione. Poi questa persona se ne è andata e ha preso le distanze, è come dire, come se avesse interrotto un flusso di emozioni, è come se avesse interrotto un flusso di emozioni che tu continui ancora ad avere nella testa, fondamentalmente. Quindi è vero che se tu dici, sì, ma no, no, certo, è fantasia, certo, è fantasia più che l'amore, certo, certo. E infatti ma l'amore è un'altra cosa. Però, però questo può bloccare, no, la persona. Poi dipende sempre da come stanno le cose. Però il concetto è che è difficile, no, avere questa, questa possibilità di avere sempre la nostra prima scelta. Talvolta la nostra prima scelta, per un motivo o per l'altro, non è disponibile, fondamentalmente. Non è disponibile. Quindi, ecco, la cosa fondamentale che sarebbe da fare è quella che dice, che solitamente dice cazzate, ma ogni tanto dice anche qualche cosa giusta, salutiamo la nostra Anna Rita e la nostra Roxy Rosa. Solitamente dice cazzate, ma ogni tanto dice anche qualche cosa di giusto, è la nostra Sissi. Perché il problema è restare fissate o no. Perché, cara Rosi, se tu resti fissata, come dire, ti precluderà i varie possibilità. Perché se tu continui a pensare a quel Mario, che non è disponibile nei tuoi confronti, o comunque magari quel Mario potrebbe essere disponibile nei tuoi confronti, ma potrebbe essere disponibile nei tuoi confronti soltanto al 10%, magari. Perché magari sto Mario ha già una situazione sua, è già magari sposato, non lo so come può essere. E questo è un po' il concetto fondamentale da prendere in considerazione, no? Dipende da questo Mario, no? Dipende molto da questo Mario. per esempio. Però il concetto è che se tu non, se tu resti fissata, puoi restare fissata anche a vita fondamentalmente, no? Non c'è un limite alla fissazione. Ci sono persone, ad esempio, che restano fissate su una persona che non c'è più, ad esempio, che magari potrebbe essere addirittura morta. Quindi resti fissata l'idea di una persona che non esiste più, almeno o perlomeno non esiste più in questa forma su questo pianeta, e quindi praticamente è una persona, questa è un amore che resterà per sempre fondamentalmente, no? Un amore che non potrà più essere interrotto se tu continui a essere fissata o fissato su quella situazione, proprio perché diventa un ideale, no? Un ideale dell'io. È come il padre fondamentalmente, no? La figura paterna per molte donne o la figura materna, magari per molti uomini, di un concetto tipico che vengono, praticamente assurgono al ruolo di, come possiamo dire, inarrivabili, no? E infatti molte donne che hanno questa cosa qua, che hanno questa situazione, vanno a comparare sempre in modo fallimentare ogni persona che incontrano, la vanno a comparare con, ad esempio, il padre o quest'altra figura, o quest'altra figura che comunque è una figura. Quindi comunque il concetto è che se una persona pensa ancora all'ex, se una persona è ancora concentrata sull'ex, devi tenere presente questo. Ma anche se tu sei ancora concentrata sull'ex, sono entrambe situazioni che devono essere sbloccate. Quindi è molto più facile quando un'altra persona è concentrata ancora sull'ex. È molto più facile se tu riesci a prendere mano alla situazione, cioè tu devi chiudere, devi ignorare tassativamente questa persona, devi ignorare tassativamente questa persona. Perché il caso più difficile invece è quando tu sei coinvolta ancora con qualcun altro. Poi il caso quasi impossibile sarebbe sei coinvolta con qualcun altro che non esiste più e quindi metti in atto tutte queste comparazioni fallimentari con altre persone. Ovviamente questo è una qualcosa senza soluzione fondamentalmente, no? Talvolta questo diventa un qualcosa che non è più gestibile. Quindi il punto fondamentale è che se una persona è collegata a un ideale che non esiste o che non si può avere è una persona con bassa autostima. Quindi il primo messaggio che ti do, se tu hai a che fare con una persona che pensa ancora all'ex, pensa ancora all'ex perché non ha sufficiente autostima. Perché se pensa all'ex e non ci torna è perché l'ex non lo vuole, altrimenti ci tornerebbe. Sono state tutte quelle persone che sono state lasciate, tutte quelle persone che sono state lasciate e che non hanno accettato il fatto di essere stati lasciati. E questo è un punto fondamentale, no? Ma la mente umana non è che è imperscrutabile. Noi possiamo scrutare la mente umana. Possiamo scrutarla ma spesso non vogliamo scrutarla. Perché quando una persona, quando hai a che fare con una persona che, diciamo, pensa ancora all'ex ma ovviamente ci pensa perché probabilmente l'ex non lo vuole, sarà comunque, come dire, è come se una grossa parte di energia è bloccata proprio sull'ex. E allora diciamo che tu puoi accettare di essere la seconda scelta se la prima scelta, diciamo, è stata abolita. Questo può essere, no? Se una persona, come dice la nostra Sissi, si è sganciata. Ma, beh, nel caso di una persona che è deceduta, non si può non accettare, no? Perché non è una visione corretta della realtà. Se una persona è deceduta questa cosa va accettata perché la realtà è quella. Purtroppo, perlomeno in questa vita, non c'è nient'altro da fare. Poi in altre vite non sappiamo come potrà, quello che potrà accadere. Ma sicuramente in questa vita, in questo spazio tempo, le cose sono così fondamentalmente. E quindi dobbiamo imparare a sviluppare in entrambi i casi, in entrambi i casi dobbiamo imparare a sviluppare, diciamo, l'autostima. Dobbiamo imparare a sviluppare l'amor proprio. L'amor proprio è il fondamento dell'autostima. E la chiave, l'amor proprio, per vivere una vita felice sentimentalmente e anche appagante sentimentalmente. Quindi, diciamo, dobbiamo imparare a limitarci, a liberarci, diciamo, di tutte le limitazioni che spesso ci infliggiamo. Cioè, il credere, ad esempio, che noi possiamo essere felici soltanto grazie a quella persona. Sia che quella persona sia viva, sia che quella persona sia morta. Perché qual è il problema di fondo? Che quando uno resta legato a una persona, quando uno resta legato a una persona, pensa inconsciamente, ovviamente, che soltanto quella persona la potrebbe rendere felice. E infatti, infatti, questo non è vero. Perché nessuno ti può rendere felice se tu non ti rendi felice da solo. In più c'è da dire che la santificazione dei morti. Perché vi siete mai chiesti perché, diciamo, i santi diventano santi soltanto dopo, soltanto post mortem? Cioè, nessuno diventa santo in vita. I santi diventano santi post mortem. Diventano santi post mortem. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando una persona muore diventa santo. Può diventare santo nella nostra mente. Può diventare santo perché, diciamo, veniamo, viene idealizzato. Perché le persone in vita, invece, hanno i difetti. Qualunque persona in vita ha i difetti. E una volta che muore, che i difetti spariscono e rimane solo l'immagine ideale. Quindi questa immagine ideale, nel caso delle persone che restano ancora collegate a un ex o una ex che non c'è più, una moglie o un marito. Ci sono tante persone che, ad esempio, magari muore... Adesso un conto è se uno rimane vedovo, vedova in età, diciamo, in età anziana, va bene. Ma ci sono persone che restano vedove. Io le ho conosciute anche, magari a 40 anni, e non hanno più, diciamo, e non hanno più possibilità. Cioè non vogliono più, come dire, restano fedeli al cadavere, fondamentalmente. Restano fedeli all'idea. In qualunque tradizione, diciamo, se vogliamo, spirituale, di qualunque natura, comunque, quando una persona muore, i legami con la Terra si perdono fondamentalmente. Ma questi sono casi limiti, però. I casi più... I casi più... normali sono quelli in cui l'ex non muore, grazie al cielo, ma semplicemente non ne vuole più sapere di te, si allontana da te. Ci sono poi anche quelli che si allontanano, ma non del tutto, e questo diventa una situazione ancora più difficile. Comunque, comunque sia, noi dobbiamo, in entrambi i casi, andare avanti con la nostra vita. Quindi, se abbiamo a che fare con una persona che pensa ancora all'ex, che è ancora l'ex nella testa, dobbiamo ignorare questa persona. Comunque, non dobbiamo, per nessun motivo, innamorarci. Possiamo andarci a letto, possiamo scoparci, possiamo interagire, possiamo fare quello che vogliamo, ma è vietato innamorarsi. Perché se tu ti innamori di una persona che è ancora in testa all'ex, o che è ancora in testa ad un'altra persona, rischi, diciamo, di essere una scelta, di essere la seconda scelta, e talvolta, beh, se l'ex è morto non c'è più nessun problema da quel punto di vista lì, ma se l'ex è vivo, ma se l'ex è vivo, che cosa succede? Succede che tu aspetti qualcuno che magari non tornerà mai, e quindi non ti potrai vivere pienamente le altre relazioni, perché l'amore, dicevamo, è un'energia. E se tu tieni una parte di energia bloccata, tieni una parte di energia bloccata su una situazione, la tieni proprio bloccata, la tieni ferma, la tieni fissa su una situazione, è come dire, potrai amare ed essere amata al 5%, al 10%, al 20%, quindi la cosa principale è ignorare comunque questa persona, ripeti, ignorarla da un punto di vista emotivo, cioè non dare più emozioni di quanto questa persona ti dà. E bisogna imparare, la prima cosa che bisogna imparare a fare, è amare se stessi, perché amare se stessi spesso è anche la lotta più grande, è la cosa più grande che noi possiamo imparare a fare. Amare se stessi non è così banale come apparentemente potrebbe sembrare, quindi noi soltanto se creiamo una giusta relazione amorosa con noi stessi, potremmo, diciamo, vivere l'amore con un'altra persona e potremmo sganciarci da chi, ad esempio, si è allontanato, da chi ci ha lasciato, da chi ci è rifiutato, da chi non esiste più per un motivo o per l'altro. E questo è un punto fondamentale, quindi la mancanza o la scarsità di amore verso se stessi ci farà sì che noi andremo a nutrirci di suorogati di amori impossibili e quindi andremo ad avvallare il fatto che soltanto l'amore che non è stato consumato, perlomeno che non è stato consumato totalmente, riesce a sopravvivere. E quindi, diciamo, cosa succederà? Succederà che probabilmente rimaremo legati a persone che ci daranno molto meno di quanto noi meritiamo, ci daranno molto meno per il semplice fatto che rappresentiamo dei suorogati, rappresentiamo la seconda scelta. Quindi come seconda scelta ovviamente abbiamo di meno, ma tra l'altro c'è anche il rischio che così non sia, che non è poi così infondato, che qualora, diciamo, in un certo momento della vita ci possa essere un ritorno dell'ex, e la persona se l'idealizzato ritorna, ritorna con quella situazione. anche se magari si è creato da un'altra parte una famiglia, in alcuni casi, questo capita. Questo vale soprattutto per le persone che hanno alimentato questo pensiero, hanno idealizzato questo pensiero, no? Perché se una persona dice, no, mi ha lasciato, ma io lo amerò per sempre, questo ma io lo amerò per sempre, diventerà una profezia che si autavvera. Abbiamo detto nel seminario di PNL, che tra l'altro chi vuole seguire il mio seminario di PNL può farlo, diciamo, abbonandosi con l'abbonamento base al canale YouTube Massimo Terramasco. Comunque, nel seminario di PNL ho detto, appunto, la scorsa lezione, questa cosa che secondo me è giusta, che noi tendiamo, diciamo, a idealizzare, tendiamo a creare, diciamo, dei fantasmi fondamentalmente quando non riusciamo a vivere pienamente le cose. Quindi, eh, sì, ma gli ex vivi rimangono fuori, beh, gli ex vivi rimangono fuori perché rimangono fuori, perché rimangono dentro gli ex morti, perché anche se una persona è deceduta è sempre e comunque un ex, no? Il fatto di non accettare, il fatto di iniziare a dirsi delle parole ma io lo amerò per sempre e questo, diciamo, purtroppo ti lega fondamentalmente, no? Non pensi neanche che possa essere un ex, ad esempio una persona che è, diciamo, e le persone che dicono che le minestre riscaldate sono acide, lo dicono soltanto quando sono stati loro a lasciare, ma quando vengono lasciati, quando sono innamorati, ad esempio, diventa difficile fare questo. Quindi dobbiamo imparare a coltivare la nostra autostima. soltanto coltivando l'amore per se stessi noi potremmo fare delle scelte che altrimenti eviteremo di fare, perché se non sappiamo noi dare l'amore a se stessi andiamo a ricercarlo in quell'amore ideale che non esiste più, ma esiste soltanto a livello fantasmatico perché lo abbiamo alimentato noi attraverso i nostri pensieri, lo abbiamo alimentato noi attraverso le nostre azioni, lo abbiamo alimentato noi attraverso gli atti cerimoniali, no? Amare se stessi significa avere un grande rispetto per se stessi, per il proprio benessere, per la propria felicità. Amare se stessi vuol dire imparare a prendersi cura dei propri bisogni, vuol dire non sacrificare il proprio benessere per compiacere gli altri. Quindi, ad esempio, non sacrificare la possibilità di vivere una storia d'amore appagante, di vivere la piena al 100%, non sacrificarla rispetto al fatto che, ad esempio, possiamo avere nella testa ancora altre situazioni, altre persone. Quindi dobbiamo toglierci assolutamente nella testa le altre situazioni, le altre persone. Togliersi dalla testa significa che proprio deve diventare indifferente quest'altra persona. E' ovvio che uno può dire, beh, ma nel caso di una persona che è deceduta, io ho sempre rispetto per quella persona lì, ma quella persona lì non esiste più in quanto persona. Potrà esistere, a seconda delle credenze, in quanto spirito. Oppure, chi crede nella reincarnazione, potrebbe esistere in un'altra forma, in un'altra vita, in un altro essere senziente, in un altro punto dello spazio-tempo o in questo punto anche dello spazio-tempo, questo non possiamo saperlo, però la verità, diciamo, è che se prima non sviluppi un buon amor proprio, un amore per se stesso, o per te stessa, andrai a ricercarti l'amore in altre situazioni che sono situazioni fantasmatiche, che non hanno nessuna realtà. Per questo devi imparare, se tu hai ancora in testa l'ex, devi imparare a liberarti di questo peso, devi imparare a liberarti del peso dell'ex. Liberati, lascialo andare per sempre e perdonati, perdonati perché noi dobbiamo sempre perdonare noi stessi e dobbiamo liberarci. e se hai a che fare con una persona che sarebbe per te la tua prima scelta, ma tu probabilmente sei la sua seconda scelta, a quel punto lì devi imparare a ignorare questa persona. Ignorarlo vuol dire non mi interessi, vuol dire non sono interessato a te, perché soltanto in questo modo, chiudendo la relazione, tu potrai produrre in questa persona uno shock emotivo, un'emozione molto forte che potrebbe diciamo trasformare un po' la situazione, magari questa persona potrebbe innamorarsi di te, tu potresti diventare la sua prima scelta, perché quando tu sei la seconda scelta di qualcuno, devi chiudere con questo qualcuno, perché è soltanto chiudendo che tu potresti diventare realmente la sua prima scelta, realmente alla persona importante, ma per arrivare a chiudere, devi arrivare a perdonare te stessa, perdonare te stesso, l'esercizio del perdono, diciamo, è allo stesso tempo semplice, ma complesso, perché tutti noi, comunque, commettiamo degli errori da un punto di vista sentimentale, affettivo, però dobbiamo imparare a venire fuori da queste cose, ci sono dei passi che sono assolutamente semplici, la prima cosa che devi fare è proprio perdonare te stesso o te stessa, perdonarti magari delle scelte che hai fatto, delle situazioni che hai vissuto, perché se non impari a perdonare te stessa o te stesso, rimarrai legata proprio a questa persona che non ti sta dando tutto quello che vuoi, rimarrai legata a una persona che pensa ancora un'altra e ti posso assicurare che vivrai male quando avrai questa relazione con questa persona che pensa a quell'altro, ma non soltanto vivrai male, perché prima o poi verrai lasciato, perché c'è una ciclicità nel ritorno degli ex, prima o poi l'ex si farà vivo con quell'altra persona, si farà vivo prima o poi nel momento in cui tu meno te l'aspetti e nel momento in cui l'altra persona magari si è un po' per così dire liberata, si è un po' lasciata andare, quindi prima cosa è perdona te stesso, quindi ricostruisci gli eventi o le situazioni che ti hanno portato magari a non perdonarti, però devi perdonarti. La seconda cosa è assumerti le responsabilità, cioè assumerti le responsabilità di quello che tu hai fatto o di quello che fai e quindi devi assumerti la responsabilità del fatto che non puoi amare una persona che è ancora in testa un'altra, perché una delle cose più brutte è essere la seconda scelta di qualcuno, di questo qualcuno che lui per te è la tua prima scelta, però tu sarai sempre messi in secondo piano, sarai sempre svalorizzato o svalorizzata, quindi devi assumerti la responsabilità delle tue azioni e l'azione che devi fare, il tuo atto di coraggio è mandarlo a fare in culo fondamentalmente e poi un'altra cosa è che dovresti imparare dalle tue esperienze passate, cioè è ovvio che uno può anche diciamo può anche avere come possiamo dire può anche avere vissuto delle esperienze spiacevoli, ma non sono tanto le esperienze spiacevoli in se stessa a fare male, è rimuginare, ad esempio quando una persona ti lascia è certo che soffri perché tutti possono soffrire diciamo perché vengono lasciati, ma il vero problema non è soffrire o non soffrire, il vero problema è quanto alimentiamo questa sofferenza attraverso i nostri pensieri e ci sono persone che iniziano a pensare ma come mai era malasciato ma questa era la persona giusta ma quello era il principe azzurro ma questo era quello no, quello era soltanto un coglione come tanti altri quindi non è detto che sia stato il principe azzurro anzi se t'ha lasciata è perché sicuramente non era un amore che doveva andare avanti e trascendere lo spazio e il tempo quindi lascia andare le cose il passato alle tue spalle e devi far sì che anche puoi relazionarti soltanto con una persona che ha il passato lasciato alle sue spalle ed è abbastanza facile capire se una persona non ha il passato non ha lasciato il passato alle spalle perché come diceva anche il nostro Crezi sarà una persona che ti darà attenzioni ma ti darà attenzioni in modo superficiale sarà una persona che vorrà interagire con te ma interagirà in modo superficiale sarà una persona che anche sessualmente non ti darà tutto quello che tu vuoi ma lo farà in modo meccanico lo farà in modo anche diciamo freddo glaciale perché proprio mancherà il pathos nel frattempo a proposito di pathos metti un like che facerà il video su youtube non ti costa niente mettere un like se vuoi fare domande sul canale basta che fai l'abbonamento basta che fai l'abbonamento base e con l'abbonamento base potrai ottenere non si sente e adesso si sente di nuovo scusate adesso si sente di nuovo ho toccato il tasto grazie vecchie carampane si sente di nuovo adesso si sente di nuovo carampane vecchie carampane malgascione che non siete altro questo è un punto fondamentale quindi tu devi imparare dalle esperienze passate devi imparare diciamo a convivere anche con delle emozioni spiacevoli devi imparare a convivere anche con delle emozioni spiacevoli devi imparare a gestire l'abbandono devi imparare a gestire il rifiuto questo è un punto fondamentale perché se non sai gestire l'abbandono se non sai gestire non potrai mai vivere una relazione che possa essere una relazione positiva non potrai mai vivere una relazione che ti possa dare qualcosa di buono e quindi queste sono tutte cose che devi fare devi tenere presente che il conflitto tra ciò che fai e tra ciò che vuoi è quello che poi ti fa soffrire tu devi fare devi andare avanti devi andare avanti in tutti i modi questo è un punto fondamentale se tu pensi di non valere abbastanza è ovvio che resterai poi collegato a delle meteore a delle metafore no an passant che ti faranno innamorare ma ti faranno innamorare perché tu non sarai in grado di vedere ciò che è veramente buono e giusto per te scusate un attimo scusate un attimo che è bene bene non ci posso credere il folletto è tornato il folletto è tornato il folletto non ci posso credere ma non so perché vogliono venire a vendere il folletto a me comunque tornando al discorso precedente e questo è importante no dobbiamo imparare ad assumerci dei rischi dobbiamo imparare ma che pacco che pacco il vento del folletto questo è un punto fondamentale no noi dobbiamo dobbiamo prendere atto di alcune cose dobbiamo prendere atto che dobbiamo imparare ad assumerci dei rischi e quindi non dobbiamo pensare se perdo questa persona ho perso tutto questa è la cosa peggiore che noi possiamo fare noi dobbiamo assumerci i rischi quando una storia finisce finisce e se una persona ancora ancora in testa l'ex ce la dobbiamo togliere dei coglioni toglierci dei coglioni dobbiamo veramente avere la forza di ignorare dobbiamo veramente avere la forza di ignorare dobbiamo veramente avere la forza di non prendere in considerazione quindi questo è il primo punto fondamentale perché dentro di noi c'è un diamante ma questo diamante dobbiamo imparare a farlo uscire e poi c'è l'altro discorso dell'accontentarsi c'è il discorso dell'accontentarsi ci sono persone che diciamo si accontentano e quindi dell'accontentarsi è un discorso esattamente negativo ci sono persone che si accontentano delle briciole e quindi si accontentano di stare con qualcuno che ha in testo un altro questo è un punto molto importante mai accontentarsi delle briciole c'era la Marilyn che diceva non sei una formica quindi non accontentarti delle briciole quindi queste sono un po' le situazioni che dobbiamo andare avanti quindi l'unica modalità è questa fondamentalmente la capacità di chiudere soltanto chiudendo e chiudendo anche nella nostra testa riusciremo in modo molto veloce riusciremo in modo molto rapido a fare veramente un salto quantico da questo punto di vista bene detto questo mettete a fare un salto